Buongiorno, buongiorno grande, abbraccio e spazio dal vostro piaccio, Giuseppe Femme Uribe! Avete visto come se la ride? Avete visto come se la ride? Negli ultimi metri, bellissimo, bellissimo vedere questo. Guardate ancora applausi che continuano. Servizi, servizi e soddisfazioni, le belle bolle degli amici della litta, la lega italiana, per la lotta contro i tumori. Alberto Furlan, bravo a concludere la viglia, proprio subito dopo Josephine Van Gogh. E adesso c'è la grande festa di Treviso.